Grazie. Il ruolo delle RCP nei confronti dei tumori del pancreas si esplica essenzialmente e epidemiologicamente parlando nei confronti dell'adenocarcinoma del pancreas. Non ripetiamo cose già dette ieri ma sappiamo che è una neoplasia altamente aggressiva che ha una curva di sopravvivenza bassissima, alla diagnosi solo il 10% di questi tumori è in stadio 1 e solo il 20% in generale è resecabile. Ovviamente la sopravvivenza peggiora in caso di malattia metastatica. Il ruolo dell'endoscopia delle RCP in questo caso si rivolge, come abbiamo detto, alla malattia non più curabile e non più resecabile come diceva anche il dottor Martinotti. Essenzialmente il nostro è un ruolo di palliazione e in particolar modo di palliazione per l'ittero. Anche qua non voglio ripetere cose dette ieri, abbiamo detto che le RCP che nasceva come tecnica diagnostica è diventata negli ultimi anni una tecnica essenzialmente terapeutica e nel 2002 sono apparse tre importanti review delle più grandi società scientifiche di gastroenterologi americani e una review del sistema sanitario statunitense che ci conferma appunto qual è il ruolo delle RCP in genere e il ruolo delle RCP nelle neoplasie maligne del tratto pancreatico biliare e quindi ovviamente sappiamo che è una tecnica assolutamente terapeutica anche perché le tecniche di imaging sono più sensibili e meno gravate da complicanze per cui per ottenere una diagnosi non ha senso fare un RCP. È la metodica di scelta nella palliazione delle neoplasie biliopancreatiche e rimane un piccolissimo ruolo nella diagnostica per quanto riguarda le RCP. In realtà tutto questo è quanto già esiste il futuro dell'endoscopia e non solo delle RCP in genere sarà poi, ci sarà lo sviluppo per altre tecniche per lo più è coendo guidato e penso che ce lo dirà la dottoressa Buscarini in termini appunto ad esempio di neurolisi del plesso celico o in termini ad esempio di brachiterapia intraduttale o di infusione di farmaci direttamente in sede, farmaci chemioterapici in sede intraduttale. Quindi concentriamoci su quelli che sono i nostri obiettivi e sul tema della relazione. Gli obiettivi della palliazione endoscopica sono la risoluzione dell'itero, l'ho già detto, la terapia dell'ostruzione duodenale e la terapia del dolore. In particolar modo come otteniamo questi obiettivi? Obiettivi terapeutici, drenaggio e stenting della via biliare nell'itero da compressione, drenaggio e stenting nel dolore di tipo ostruttivo o eventualmente nella sepsida ostruzione del virsung e un ruolo volendo terapeutico per il momento marginale con la brachiterapia. Ho già accennato un piccolo ruolo diagnostico ovvero sia quello del tissue sampling con appunto acquisizione di campioni di tipo istologico-citologico che però hanno una bassa sensibilità. Anche in combinazione l'istologia e la citologia non raggiungono livelli soddisfacenti di accuratezza e sensibilità e probabilmente in futuro con la conoscenza e l'individuazione di markers molecolari neoplastici sarà possibile in pazienti ad alto rischio, quindi in un subset di pazienti come quelli con pancreatite cronica con sindomi familiari correlate al carcinoma del pancreas, restituire un ruolo diagnostico all'RCP che per il momento è ridotto. Anche questa diapositiva vi mostra quanto appena detto, cioè l'RCP anche col tissue sampling ha una sensibilità e un'accuratezza davvero scadente e può essere questo dato migliorato ad esempio dalla ecoendoscopia intraduttale. Qui ritorno un po' su quanto diceva anche il dottor Martinotti. Noi dobbiamo ottenere il drenaggio biliare e ci si è chiesti se fosse meglio il drenaggio chirurgico o il drenaggio endoscopico. Questa meta-analisi analizza tramite questi quattro parametri che voi vedete, la sopravvivenza, il fallimento eccetera, quale delle metodiche sia meglio. Ovviamente come già sappiamo la sopravvivenza a un mese non viene inficiata da nessuno dei due trattamenti. Per quanto riguarda il fallimento della metodica ovviamente è un punto a favore dei chirurghi perché è più facile che fallisca l'endoscopia e anche come necessità di reintervento è più facile che sia, anzi è quasi certo il fatto che l'endoscopia debba essere poi ripetuta. Come complicanze maggiori invece il dato è da interpretare nel senso che non è ancora definito. Qual è il limite di questa meta-analisi? Stesso argomento nella Cochrane Review del 2006 e in questo caso venivano analizzati 21 studi, 1500 pazienti. Le conclusioni, seppur come dicono gli autori non del tutto certe e cessitando ancora di ulteriori lavori, ci dicono che comunque i pazienti sottoporsi a stent endoscopico hanno minori complicanze e minore mortalità, che i pazienti che fanno uno stent endoscopico ovviamente hanno maggiore rischio di reostruzione, che le protesi metalliche vanno meglio di quelle in plastica e che nell'ambito delle metalliche sono meglio le ricoperte pur avendo rischio maggiore di migrazione e di induzione della colecistite. Se parliamo di costi è ovvio che la endoscopia costa meno e questo qui è un lavoro statunitense, ma comunque penso che gli stessi dati si possano riportare anche alla nostra realtà e questo dato è legato essenzialmente al fatto che il paziente sottoposto a un trattamento chirurgico ha maggior permanenza in ospedale, quindi è legato ai costi dell'adegenza. Se dobbiamo scegliere una protesi per il paziente dobbiamo chiederci quale possa essere la protesi migliore e ovviamente questo dipende dalle caratteristiche del paziente. Mi spiego meglio, ovvero se è un paziente che ha una prognosi quad vitam inferiore ai 3 mesi oppure un paziente metastatico, ovviamente si può utilizzare anche uno stent in plastica a patto che abbia un diametro di almeno 10 french e o se sia possibile mettere magari più drenaggi. Lo stent metallico ovviamente si può utilizzare se la prognosi di vita è superiore anche perché come ho appena detto ha una maggior durata e minor rischio di costruzione. Poi se si chiede sempre in termini di corsi se valga la pena di mettere fin da subito in ogni caso uno stent in metallo, questo lavoro ci dice sì perché ogni volta che io ripeto le RCP perché devo sostituire la protesi o disostruire, comunque il costo aggiuntivo di ogni RCP RCP aggiuntiva è di 1820 dollari. Anche questo lavoro ci testimonia come l'impianto fin da subito di una protesi metallica possa essere più utile sia in termini di lunghezza di pervietà che in termini di effetti diciamo sulla qualità di vita del paziente. Non voglio tanto insistere sul drenaggio preparatorio perché ne ha parlato il dottor Matinotti e anche qua ovviamente ci sono lavori un pochino opposti per quanto riguarda sempre l'estrazione chirurgica ci dicono che alcuni ma tutto sommato non sono neanche così contrari al drenaggio preparatorio come brittusageri ma la maggioranza ne ho segnalati solo due ci dicono no assolutamente evitate lo stent endoscopico per l'elevato rischio di complicanze per lo più di tipo settico come già citato. Secondo punto, secondo obiettivo, i pazienti con l'ostruzione bilioduodenale questa è un'immagine nostra anche abbastanza recente di una infiltrazione della parete duodenale in particolar modo della seconda porzione duodenale sappiamo che riguarda fino al 20% dei pazienti e l'ostruzione duodenale riduce la proniosi quad vitam del paziente a un massimo di 3-4 mesi di sopravvivenza. Questo è un lavoro italiano che propone una classificazione del tipo di ostruzione bilioduodenale il tipo 1 è la stenosi prepapillare quindi del duodeno ad esempio a livello del ginocchio il tipo 2 è l'ostruzione della seconda che ingloba anche la papilla e la tipo 3 è l'ostruzione che potremmo definire la postpapillare quindi del duodeno a valle dello sbocopapillare. Anche qua la metodica endoscopica combinata quindi di posizionamento sia di uno stent enterale che di uno stent biliare ha ormai preso largo campo e quindi è attualmente di utilizzo corrente ma noi endoscopisti dobbiamo ricordarci che quando fallisce il tentativo di posizionamento di una presenza biliare abbiamo la possibilità di ricorrere alla radiologia. Infine terzo punto, terzo obiettivo, la terapia del dolore. In questo caso mi riferisco al dolore da ipertensione duttale quando la neoplasia produce un'ostruzione che possa creare un dolore al paziente con il carcinoma del pancreas. Ovviamente questo lavoro sempre italiano riporta una risoluzione completa del dolore nel 60% di casi che è un ottimo gol terapeutico mediante sfinterotomia pancreatica e posizionamento di uno stent nell'adotto pancreatico. Adesso ho una serie di immagini con l'angiografica. In questo caso vediamo in entrambe le immagini l'astenosi della via biliare principale di tipo compressivo e in questo caso vediamo un altro caso analogo con l'astenosi del tratto distale e dove è stata ottenuta anche l'opacizzazione del viersung. Questo è un caso molto recente, una stenosi ancora una volta del tratto distale della via biliare, le via biliare a monte dilatate e questo caso è stato trattato con il posizionamento di una protesi metallica autoespansibile. Caso analogo, una breve stenosi distale, paziente anziana, metastatica, con un pessimo performance status, è stato deciso il posizionamento di una protesi in plastica. Questo invece è un caso di disostruzione bilioduodenale, un paziente con una neoplasia infiltrante della testa pancreatica che produceva una stenosi del duodeno, ovviamente sintomatica. Il primo approccio è stato di tipo endoscopico, quindi è stata posizionata endoscopicamente una protesi enterale, la vediamo qua, una protesi autoespansibile metallica, con riduzione e risoluzione della sintomatologia occlusiva. e successivamente abbiamo chiesto poi l'intervento del dottor Rozi che per via radiologica, per via percutale, ha posizionato una protesi metallica in via biliare, questa qui è la nostra, questa qua invece è la protesi posizionata per via radiologica. Un brevissimo accenno, so che già ieri il dottor Buffoli ha mostrato un video a tal proposito e un ruolo marginale delle RCP per quanto riguarda l'ampulloma nella forma protrudente, ovvero sia una tecnica che prevede la resezione con ansa diatermica della papilla e la protesizzazione della via biliare, ma soprattutto della via pancreatica, in maniera temporanea per evitare soprattutto la complicanza maggiore in questi casi che è la pancreatite post procedura. Conclusioni, quindi, l'RCP, per rispondere appunto a quello che era il tema della relazione, è la tecnica palliativa di prima scelta nell'iterostruttivo e nell'ostruzione duodenale, garantisce un'elevata probabilità di successo, tutto sommato a poche complicanze e dato non ultimo per importanza, permette alla fine un buon risparmio di risorse. Io vi ringrazio, passo di nuovo la parola al dottor Buffoli. Grazie.